...e scampi e 20... 20 e 18 20 più 18 quanto fa? quanto fa? 20 più 18 38 e 15 più 17 16 che fa? vai 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 forco dio mi voglio sapere come ti fai i conti ma noi ne fai con gli altri 20 prima 15 20 e te va a 38 ma come se lo conti adesso? 36 come fa a fare 18 più 15 non fa? 36 Dio ti male dica te da un schiaffone che ti pitturo su quel muro e te male puttana che ti compo dio ca? 15 e 18 quanto fa? coglione dio parco dio ca? ma che avete fatto? cari gatto che fa a schiena c'ho cretino ma dica in che modo c'è c'ho cretino dio ca ma ragazzi non lavora però c'è il sapono ti consegnavi i punti ti consegnavi i punti e tutti stai a rompami i coglioni eh c'è 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 c'è